ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale qui cappello di paglia allora oggi voglio aprire con voi il vaso di pandora probabilmente perché una possibile casa di gradazione italiana mi potrebbe chiedere di rimuovere questo video o mi denuncerà ovviamente sto scherzando un bacione loro avvocati comunque bene fate ovviamente le dovute premesse oggi parleremo di carte gradate e del loro mercato per chiunque non sapesse cosa significa gradare una carta ve lo spiego subito esistono delle particolari case di valutazione a cui è possibile inviare le proprie carte con lo scopo preciso di sigillarle per poi ottenere una valutazione sulle condizioni ultimamente bazzicando un po su youtube e su alcuni gruppi facebook di yugi e pokemon mi sono reso conto che la situazione sta lentamente degenerando ma facciamo prima un passo indietro e torniamo al 2020 a seguito del boom delle carte collezionabili dello scorso anno il popolare servizio di classificazione delle carte psa e poi successivamente beckett è stato costretto durante i primi mesi del 2021 a chiudere temporaneamente gli ordini affermando ovviamente di volerli riaprire il prima possibile questo lasso di tempo dovrebbe permettergli di elaborare tutti gli ordini arretrati questo perché di recente avevano ottenuto più ordini in tre giorni che negli ultimi tre mesi all'inizio di marzo l'azienda aveva deciso anche di raddoppiare i prezzi sperando così in un possibile rallentamento cosa che però non è successa questa esplosione ha spinto molte persone soprattutto e sottolineo che non hanno a che fare assolutamente con questo mondo ad interessarsi solamente al lato economico molti hanno iniziato ad investire in carte collezionabili vi faccio un esempio stupido ciccio gamer 89 per quanto continua a dire che è appassionato del mondo pokemon utilizza ogni tre per due la parola investimento forse citando antoshow ha preso troppo sul serio la parola trading nel corso di quest'anno e di quello scorso questa passione si sta trasformando in una valuta alternativa e porta le persone a comprare roba vintage per poi rivenderla di più e scusate piccola informazione dovevate comprare la roba prima quando ovviamente il mercato di yugi e il mercato di pokemon avevano ancora prezzi accessibili io essendo giocatore e collezionista da una vita ho visto il mio album passare da 1000 a 4000 euro così che poi queste persone si credono geni del marketing che cosa cringe sono giochi che dovrebbero aiutare a socializzare e divertirsi e invece si parla di soldi 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 mamma mia che cosa triste la cosa ancora più triste è vedere questi enormi titoloni su youtube ho scritto in maiuscolo ho sbustato la carta da 500 euro ovviamente non ce l'ho con queste persone è un titolo che attira views pure io l'ho fatto una volta con un lotto settimana scorsa qua stiamo portando le nostre fanbase a credere che l'unica cosa importante sia il denaro il valore della carta adesso voglio un attimo raccontarvi una storia che è fuori copione però secondo me è molto importante che l'ascoltiate se è stata il compleanno dei miei padre c'era pure mia cugina piccola ovviamente per l'ennesima volta gli ho spiegato cosa facevo su youtube tanto per dici la faccio appassionare al mondo delle carte di yugio lei mi ha iniziato a dire e vabbè mi regali una carta da 5 euro così dopo la rivendo raga vi giuro mi si è gelato il sangue nelle vene probabilmente aveva visto qualche video su youtube oppure lo aveva sentito in classe dai suoi amici però no voleva provare a sbustare per trovare carte da rivendere io giocavo gioco a yugi e giocherò perché mi piace il gioco del lato economico me ne sbatto altamente i coglioni se la mia collezione valeva un terzo io stavo comunque qua a farvi questo video parlandovi di quanto è bello questo gioco probabilmente dovremmo fare tutti un passo indietro che metterci una mano sulla coscienza cioè noi stiamo influenzando dei possibili giocatori futuri non credo che questo sia il modo giusto di andare avanti altro elemento che va molto a braccetto con i soldi e quello che abbiamo detto prima su psa riguarda il gradare le carte per aumentarne il valore e quindi ovviamente ottenere un riscontro economico considerando i tempi e costi molto sostanziosi nel caso si voglia usufruire dei servizi di psa e bgs molte persone stanno investendo i loro soldi in caso di grading di cui ovviamente non faremo il nome vendendo poi queste carte come chicche da collezione ovviamente non sono qui per fare polemica ognuno può buttare i propri soldi come vuole però vorrei soffermarmi su alcuni punti per quale motivo queste carte dovrebbero avere un prezzo maggiorato ovviamente non ce l'hanno queste case nate da pochi anni non hanno influenza globale e quindi nel momento una persona voglia vendere uno straniero una carta gradata lui l'acquisterà a prezzo normale gli farà schifo la spaccherà e la manderà probabilmente da psa o bgs ovviamente tutto questo accadrà nel momento in cui la persona che compra non è un completo deficiente ma allora queste due case come fanno ad aumentare esponenzialmente il valore di una carta la risposta è semplice entrambe lavorano nel mondo del collezionismo e decimeli sportivi dagli anni 80 e nel corso degli anni hanno saputo dimostrare un enorme professionalità senza escludere poi ovviamente che psa è valutata in borsa mentre bgs ha vinto numerosi premi quindi potete capire anche da soli che tra queste due e tutto il resto c'è un abisso quindi attualmente conviene inviargli carte moderne per aumentarne il valore sinceramente no questo perché oggi c'è una maggiore cura per le carte visto che effettivamente se ne conosce il loro reale valore quindi molto spesso capita che le persone le inviano subito a gradare sperando di fare il colpaccio quando in realtà non è così la possibilità di trovare una prismatica gradata 10 è molto più alta di trovare un drago bianco occhi blu de ldd gradato 9 in quanto all'epoca le carte venivano giocate da dei bambini e ovviamente le rovinavano il valore di una carta gradata è un mix che deriva dalla scarsità di quell'oggetto unito poi alla valutazione che l'azienda gli dà charizard set base gradato 10 non esiste un 9 è stato venduto per 300.000 dollari la rarità di questa carta deriva dal fatto che la maggior parte di essa è finita in mano a dei bambini che come detto prima le hanno rovinate cosa che invece non è capitata a qualsiasi charizard degli ultimi due anni perché puntualmente venivano sbustati e o slivati o gradati quindi essendo carta pack fresca avevano ricevuto tutte una valutazione dall'otto e mezzo in su cosa che ovviamente in futuro non porterà ad un aumento del prezzo della carta cosa molto importante il prezzo di una carta gradata è influenzato moltissimo dal voto considerate che con un 7 la carta è valutata NM quindi se ne invierete una e otterrà una valutazione inferiore non avrà alcun incremento caso contrario succederà se avrà una valutazione superiore ovviamente non vi sto dicendo che gradare una carta è totalmente inutile vi chiedo solo di farlo con un senso logico scegliendo ovviamente la casa di grading più consona a quello che volete ottenere perché come vi ho già spiegato non sono tutte uguali inoltre scegliete bene anche cosa mandare perché capisco una carta a cui siete affezionati roba vintage, ultimate da OTS che si rovinano solo guardandole o le price card ma non fatelo con qualsiasi carta che vi capita sotto mano sperando di far soldi ho visto persino in vendita un mese dopo l'uscita di blazing vortex drago armato del tuono livello 10 secret neanche prismatico raga drogatevede meno per favore mentre per tutti gli altri nel caso voi foste finiti in questo mondo solo per fare soldi facili e ovviamente non ve ne frega un cazzo di questo mondo andatevene a fanculo e trovatevi un lavoro vero grazie ragazzi voglio concludere questo video con una frase il collezionismo e i giochi di carta in generale sono una cosa seria non sono una puttana per far soldi bene mi sono tolto un peso da dentro detto questo spero che il video vi abbia interessato perché ci tengo tanto e voglio sapere qua sotto nei commenti un vostro parere inoltre qua sotto in descrizione se ci passate potete trovare tutti i miei social per seguirmi ovunque e il gruppo telegram se vi volete unire e fare quattro chiacchiere quindi ragazzi state me easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti